Salve a tutti, in questo video parlerò del leggendario padre Pio, il santo di Pietralcina, un personaggio amato e venerato da molti, considerato come un santo protettore la cui figura tiene lontano ogni pericolo o maledizione. Almeno questo è ciò che crede la gente, perché la verità è un'altra, ovvero che padre Pio fu in realtà un abile impostore, da un accurato articolo pubblicato su Proversi.it. Al di là di doti taumaturgiche e attitudini miracolistiche ampiamente discusse e mai dimostrate, sono tante le testimonianze e gli studi che evidenziano la capacità di padre Pio da Pietralcina di sedurre migliaia di fedeli, creando intorno alle sue attività un business milionario e un ritorno d'immagine di cui la Chiesa, dopo i dubbi iniziali, beneficia ancora oggi. Sostenitore di questa posizione è Mario Guarino, autore di un'analisi dettagliata delle vicende terrene del santo. Da vivo la Chiesa lo definì ufficialmente un impostore. Da morto è stato subito beatificato e a tempo di record santificato. Un altro miracolo postumo di padre Pio? No, è il fiume di miliardi originato dalla leggenda del frate miracoloso, un enorme business che ha lavato l'impostura e ha fatto assorgere il frate di Pietralcina alla santità. Del resto il solo vero miracolo del frate con le stigmate fantasma è stato ed è quello affaristico, un giro di denaro enorme con le diramazioni più impensabili, il cui epicentro è a San Giovanni Rotondo. Tutti intorno un corollario di intrighi, maneggi e scandali. Dal libro di Mario Guarino, santo impostore, contro storia di padre Pio. Guarino che ha anche firmato un dettagliato studio sulle acrobazie finanziarie del Vaticano, mercanti del Vaticano, affari e scandali, l'industria delle anime, caos edizioni del 1998, propone una sorta di biografia non autorizzata del santo di Pietralcina, attingendo da fonti autorevoli e partendo proprio da documenti della chiesa. Il ritratto che viene fuori è profondamente diverso rispetto a quello fornito dalle rappresentazioni ufficiali. Nella sua ricostruzione, Guarino mette seriamente in dubbio la buona fede del frate, citando diversi casi in cui il santo si sarebbe reso protagonista di veri e propri raggiri ai danni dei fedeli e della chiesa stessa. Negli ultimi due capitoli in particolare, l'autore si sofferma sull'enorme giro di soldi creatosi intorno alla figura del cappuccino. Stando a questa ricostruzione, l'ospedale fondato da padre Pio a San Giovanni Rotondo, noto come casa sollievo della sofferenza, sarebbe stato a lungo al centro di una serie di disavventure finanziarie. Dopo l'intervento dello IOR, la struttura si è trasformata in un centro di potere politico ed economico, sostenuto dai fondi milionari dello Stato e della Regione Puglia. Sullo sfondo, Mario Guarino descrive un'Italia soggiogata dalla figura di un santo truffatore piecata dall'ignoranza e della superstizione. Sulla stessa linea si muove il dossier padre Pio, cronologie e documenti di un grande inganno, caos edizioni del 2009, che offre un'attenta ricostruzione della vicenda basandosi su documenti e testimonianze, a partire dalle tre relazioni con cui padre Agostino Gemelli stroncò le attività del cappuccino. Gemelli, medico e psicologo specializzato nello studio di fenomeni mistici, fu inviato dal Santo Uffizio per indagare sulla figura del frate. Dopo una prima visita avvenuta il 19 aprile del 1920, il consulente del Vaticano liquidò la questione come un inganno, facendo recapitare a Roma una lettera in cui parlava appunto di un blef. Padre Pio ha tutte le caratteristiche somatiche dell'isterico e dello psicopatico, quindi le ferite che ha sul corpo fasulle, frutto di un'azione patologica morbosa. Un ammalato si procura lesioni da sé. Si tratta di piaghe con carattere distruttivo dei tessuti, tipico della patologia isterica. Sergio Lozzatto, padre Pio, miracoli a politica nell'Italia del 1900 e in Audi 2007. La situazione non migliorò nelle relazioni successive, elaborate nel luglio dello stesso anno e nel 1926. Il frate presentava le note caratteristiche di una deficienza mentale di grado notevole. La suggestione esercitata su di lui dal padre Benedetto ha finito per creare uno stato morboso che fra le sue manifestazioni ha avuto anche le stigmate. Padre Pio a poco a poco è stato vittima e causa della suggestione collettiva che si è andata creando intorno a lui. Dossier padre Pio, citazione pagina 15. Per la Chiesa fu difficile ignorare le parole di una delle massime autorità del settore che negli anni successivi avrebbe fondato l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Secondo diversi studiosi, proprio quello delle stigmate rappresentò un ingegnoso espediente attraverso cui il frate riuscì a convogliare intorno alla propria figura carismatica l'attenzione del mondo cattolico. Su questa linea si muove il monumentale lavoro di scavo archivistico di Sergio Luzzatto, docente di storia moderna presso l'Università di Torino. Luzzatto solleva tantissimi dubbi sulla buona fede e sulle reali intenzioni del frate, a partire dall'utilizzo che egli fece delle stigmate. I passaggi fondamentali dell'opera sono riassunti dallo stesso Luzzatto in un intervento sul Corriere della Sera del 24 ottobre del 2007. Il cerchio intorno a Padre Pio aveva cominciato a stringersi fra giugno e luglio del 1920, poco dopo che era pervenuta al Santo Uffizio la lettera perizia di Padre Gemelli sull'uomo a ristretto campo di coscienza, soggetto malato, mistico da clinica psichiatrica. Giurate nelle mani del vescovo di Foggia, Monsignor Salvatore Bella e da questi inoltrate, le testimonianze di due buoni cristiani della diocesi pugliese avevano proiettato sul corpo dolorante del cappuccino un'ombra sinistra. Più che profumo di mammole o di violette, odore di santità dalla cella di Padre Pio erano sembrati sprigionarsi e fluvi di acidi e di veleni, odore di impostura. Il primo documento portava in calce la firma del dottor Valentini Vista, che a Foggia era titolare di una farmacia nella centralissima piazza Lanza. Al vescovo il professionista aveva riferito anzitutto le circostanze originarie del suo interesse per Padre Pio. La tragica morte del fratello occorsa il 28 settembre 1918 per effetto dell'epidemia di Spagnola, possiamo facilmente ipotizzare. La speranza che il frate Cappuccino, proprio in quei giorni trafitto dalle stigmate, potesse intercedere per l'anima del defunto. Il dottor Valentini Vista era poi venuto al dunque. Nella tarda estate del 19, il pellegrinaggio a San Giovanni era stato compiuto da una sua cugina, la ventottenne Maria De Vito. Giovane e molto buona, brava e religiosa, lei stessa proprietaria di una farmacia. La donna si era intrattenuta nel Gargano per un mese, condividendo con altre devote il quotidiano train delle vie del santo vivo. Il problema si era presentato al rientro in città della signorina De Vito. Quando ella tornò a Foggia mi portò i saluti di Padre Pio e mi chiese a nome di lui e in stretto segreto dell'acido fenico, puro, dicendomi che serviva per Padre Pio e mi presentò una bottiglietta della capacità di un 100 grammi, bottiglietta datale da Padre Pio stesso, sulla quale era appiccicato un bollino col segno del veleno, cioè il teschietto di morte, e la quale bottiglietta io avrei dovuto riempire di acido fenico puro che, come si sa, è un veleno e brucia e caustica enormemente allorquando lo si adopera integralmente. A tale richiesta io pensai che quell'acido fenico adoperato così puro potesse servire a Padre Pio per procurarsi o irritarsi quelle piaghette alle mani a Foggia. Voci sul ritrovamento di acido fenico nella cella di Padre Pio avevano circolato già nella primavera di quel 1919, inducendoli il professor Morrica a pubblicare sul mattino di Napoli i propri dubbi di scienziato intorno alle presunte stigmate del cappuccino. Non fosse che per questo il dottor Valentini Vista era rimasto particolarmente colpito dalla richiesta di acido fenico puro che il frate aveva affidato alla confidenza di Maria De Vito. Tuttavia trattandosi di Padre Pio, egli si era persuaso che la richiesta avesse motivazioni innocenti e aveva consegnato alla cugina la bottiglia con l'acido. Ma la perplessità del farmacista era divenuta sospetto poche settimane dopo quando il cappuccino di San Giovanni aveva trasmesso alla donna, di nuovo sotto consegna del silenzio, una seconda richiesta, 4 grammi di vetra tirrina. Temerario il sospetto del farmacista e della cugina? Non sembrò giudicarlo tale il vescovo di Foggia che pensò bene di inoltrare al santo uffizio le disposizioni di entrambi. D'altronde un po' tutte le gerarchie ecclesiastiche locali si mostravano scettiche sulla fama di santità di Padre Pio. Se il ministro della provincia cappuccina, padre Pietro da Ischitella, metteva in guardia il ministro generale dal fanatismo e dall'afforismo dei san Giovannesi, l'arcivescovo di Manfredonia, Monsignor Pasquale Gagliardi, rappresentava come totalmente fuori controllo la situazione della vita religiosa a San Giovanni Rotondo. Sergio Luzzatto, padre Pio, Il giallo delle stigmate, Corriere della Sera, 24 ottobre 2007. Proprio da questo momento nella storia di padre Pio entrano in gioco quei capi d'accusa destinati a divenire un fondamentale cavallo di battaglia dei suoi detrattori, ovvero il lucro e il sesso. Per il cestiale profumo intorno alla cella e al corpo di padre Pio riuscirà a puzzo di zolfo al naso di quanti insisteranno sulle ricadute economiche o almanaccheranno sui risvolti carnali della sua esperienza carismatica Ibidem. Tali considerazioni sono state riprese da Aldo Cazzullo, padre Pio, un immenso inganno, Corriere della Sera, 25 ottobre 2007, che ricostruisce il pericoloso intreccio tra lucro e sesso che caratterizzava la vita del santo nella cittadina pugliese. Stamane da Monsignor Parente informazioni gravissime circa padre Pio e quanto lo concerne a San Giovanni Rotondo. L'informatore aveva la faccia e il cuore distrutto, l'informato è Giovanni XXIII e queste sono le parole che il Papa annota il 25 giugno 1960 su quattro foglietti rimasti inediti fino a oggi e rivelati da Sergio Luzzatto. Con la grazia del Signore io mi sento calmo e quasi indifferente come innanzi ad una dolorosa e vastissima infatuazione religiosa il cui fenomeno preoccupante si avvia a una soluzione provvidenziale. Mi dispiace di padre Pio che ha pure un'anima da salvare e per cui prego intensamente annota il pontefice. L'accaduto, cioè la scoperta per mezzo di filmine si vera sunt quae referentur dei suoi rapporti intimi e scorretti con le femmine che costituiscono la sua guardia pretoriana sin qui infrangibile intorno alla sua persona. Fa pensare ad un vastissimo disastro di anime, diabolicamente preparato a discredito della Santa Chiesa nel mondo e qui in Italia specialmente. Nella calma del mio spirito io umilmente persisto a ritenere che il Signor faccia cum tentatione provandum e dall'immenso inganno verrà un insegnamento a chiarezza e a salute di molti. Al futuro Giovanni XXIII padre Pio non era mai piaciuto all'inizio delle anni venti quando per due volte aveva percorso la Puglia come responsabile delle missioni di propaganda FIDE aveva preferito girare alla larga da San Giovanni Rotondo. Ma è soprattutto la fede ascetica mistica quasi medievale di cui il cappuccino è stato il simbolo per la chiesa modernista d'inizio secolo come per la chiesa conciliare a cavallo tra gli anni 50 e 60 a essere estranea alla sensibilità di Angelo Roncalli. Che sempre il 25 giugno annota ancora motivo di tranquillità spirituale per me e grazie e privilegio inestimabile è il sentirmi personalmente puro da questa contaminazione che da ben 40 anni circa ha intaccato centinaia di migliaia di anime istupidite e coinvolte in proporzioni inverosimili. E dopo aver ordinato una nuova visita apostolica a San Giovanni Rotondo ad appunto quasi 40 anni da quella compiuta nel 1921 il papa conclude che purtroppo laggiù il padre Pio si rivela un idolo di stoppa. La pubblicazione di Luzzatto frutto di uno studio durato circa sei anni trovò vasto eco sui maggiori organi di informazione. Importante il contributo del vaticanista del quotidiano la stampa Giacomo Galeazzi. Padre Pio battaglia senza fine un libro riapre il caso impostore lussurioso o vittima di papa Giovanni? La stampa 26 ottobre 2007 che si concentra sui rapporti del santo con papa Roncalli. Padre Pio impostore lussurioso o vittima di Giovanni XXIII suo spietato persecutore e calugnatore. Spacco nel mondo ecclesiale gli appunti privati in cui il papa bolla come un immenso inganno e un disastro di anime l'opera del cappuccino proclamato santo da Carol Voitila. Deplorandone i rapporti scorretti con i fedeli. Fu una persecuzione per togliere di mezzo un tradizionalista scomodo per la chiesa modernista di Roncalli oppure erano fondate le accuse arrivate in Vaticano sulle truffe economiche e gli scandali sessuali del cappuccino? Il teologo Giovanni Franzoni ex abbate della basilica romana di San Paolo ricorda il giudizio negativo di padre gemelli e le diagnosi cliniche di cancrini sull'istrionismo pulsionale e la necessità di mettersi in mostra di padre Pio. Le stimmate sono una nota malattia della pelle. Le ho viste anche in persone che nulla avevano di santo, puntualizza Don Franzoni. Padre Pio non è mai parso monastico e ritratto in se stesso, ma idolatrato e sovraesposto già da un'iconografia miracolistica. Erano gli uffici a trasmettere notizie negative su quanto avveniva a San Giovanni Rotondo. Il pontefice non aveva alcun pregiudizio ma non poteva che prenderne atto, spiega l'arcivescovo Loris Capovilla, segretario personale di Papa Roncalli. Il suo timore nasceva dalle informazioni degli incaricati della Santa Sede. Roncalli era allarmato dal gran giro di denaro. Ora da questo documento sappiamo che, oltre alle registrazioni sacrileghe e illegali nel confessionale, il Papa credeva esistessero filmini di padre Pio sorpreso in atteggiamenti equivoci con ragazze. Stigmate ingannevoli e finti miracoli sono quindi solo due aspetti di un quadro sconcertante in cui si osserva un intreccio di soldi e relazioni pericolose ben lontano dall'immagine sfornata dai biografi ufficiali e dalla chiesa. Tra i vari reportage realizzati sul tema spicca il documentario promosso nel 2011 da Telemaco inchieste, Le stigmate e il denaro, lascerò il link del trailer di YouTube in descrizione. La realizzazione del filmato ad opera del regista e sceneggiatrice Giorgia Pietrapaoli non fu affuatto semplice e gli autori incontrarono diverse resistenze soprattutto nel raccogliere le testimonianze tramite intervista. Come racconta la stessa Pietrapaoli, quando abbiamo cominciato a girare le interviste per il documentario su padre Pio, ci siamo resi conto da subito che non sarebbe stato facile. Volevamo avere il contributo di biografi ufficiali e di scrittori pro padre Pio, ma volevamo anche il contributo di chi ha sollevato dubbi ed espresso critiche sulla sua figura. Tanti di loro erano già stati correlati e non c'è stato verso di convincerli a rilasciare un'intervista. Le riprese sono cominciate a San Giovanni Rotondo, dove abbiamo trovato uno strano clima di paura, accompagnato da atteggiamenti di chiusura che si contrapponevano fortemente alla facciata di tranquillità e serenità che la direzione dell'ospedale, casa sollievo della sofferenza e l'entourage dei frati Cappuccini cercavano a tutti i costi di mostrare. Sono stati giorni in cui ci incontravamo di notte e di nascosto con persone spaventate, abitanti del posto che hanno avuto paura di metterci la faccia perché qui mi conoscono, mi verrebbero a cercare se parlassi. Ogni volta provare a rompere il muro del silenzio per cercare di fare bene il nostro lavoro si è rivelato davvero difficile. Emblematico è il caso di Francesco Crupi, il direttore generale dell'ospedale di San Giovanni Rotondo, il quale, terminata l'intervista, si è rifiutato di rilasciarci la liberatoria per utilizzarla. La motivazione è stata che doveva visionare il film montato prima di decidere se autorizzarci o meno. Giorgia Pietrapaoli, padre Pio tra i miracoli e i miliardi, in Le stigmate e il denaro, l'unità, 16 giugno 2011. Giorgia Pietrapaoli passa quindi ad analizzare i risultati più importanti del suo lavoro. Padre Pio è senza dubbio il santo più amato dei nostri giorni, di conseguenza il giro d'affari legato alla sua figura è strabiliante e supera i 5 miliardi di euro all'anno. Il Vaticano non l'ha sempre considerato un santuomo, aveva forti dubbi sulle sue stigmate, sulle sue visioni e sui miracoli che gli venivano attribuiti ogni giorno. Di recente inoltre la costruzione della nuova chiesa a San Giovanni Rotondo dedicata al santo ha suscitato forti polemiche tra i fredeli e nelle gerarchie ecclesiastiche. Analizzando testimonianze, consultando medici, psichiatri ed esperti di cose ecclesiastiche, questo film inchiesta ricostruisce una storia fatta di sotterfugi ed inganni, di uomini d'affari e di organizzazioni segrete, di omertà e di denaro. Tutte le persone intervistate hanno comunque qualcosa che condividono, l'avversione per il volto estremamente mediatico, affaristico e poco spirituale che San Giovanni Rotondo ha ormai assunto ibidem. Pier Giorgio Di Freddi, citato nel documentario della Pietra Paoli, docente di logica matematica presso l'Università di Torino e autore del libro Perché non possiamo essere cristiani e meno che mai cattolici, longanesi 2007, è tra le voci che meglio di tutte aiutano a comprendere il giro di affari che ruota intorno alla figura di Padre Pio. Partita come una critica alla chiesa e in generale al cristianesimo, Odi Freddi concentra la sua analisi sulle incongruenze presenti nelle sacre scritture, per poi passare in rassegna alcune figure importanti dell'universo cattolico. Tra loro spicca proprio Padre Pio, del quale è messa in evidenza non solo la natura equivoca delle stigmate, ma anche e soprattutto l'immensa portata degli interessi economici generati sia da vivo che da morto. Nel corso di una puntata della trasmissione televisiva di Rai 1, Porta a Porta, Odi Freddi ha esposto così il suo punto di vista. La chiesa è giunta ad un compromesso con Padre Pio solo con Paolo VI e grazie ad una transazione economica. Al pontefice, infatti, fu riferito che Padre Pio era diventato uno degli uomini più ricchi d'Italia, anche se tra l'altro, come Cappuccino, non poteva avere il possesso di nulla. A quel punto Paolo VI ha avvocato a sé l'enorme patrimonio che girava intorno a Padre Pio in cambio di un assenso. Odi Freddi, Contromessori, Padre Pio. Un assenso che evidentemente ha permesso al frate di Petralcina di disarcionare la sentenza di condanna con cui la chiesa lo aveva relegato ai margini, avviandosi verso un destino di gloria e santità.